Il cambiamento di coscienza vi apre le porte a un nuovo livello di consapevolezza, in cui potete percepire la connessione profonda che esiste tra voi e tutto ciò che vi circonda. Con questo nuovo stato di consapevolezza, diventate custodi del vostro potere interiore. Non più schiavi delle circostanze o delle limitazioni imposte da altri, ma creatori consapevoli della vostra realtà. Accettate e abbracciate il potere che scorre attraverso di voi, perché siete una manifestazione dell'universo stesso. Siete il dio della vostra esistenza, il regista e il protagonista della vostra storia. Ma questo potere non deve essere usato solo per ottenere ricchezza materiale o successo superficiale. Il vero cambiamento di coscienza va oltre le manifestazioni esterne e si concentra sul vostro essere interiore. È un invito a coltivare l'amore, la gratitudine, la compassione e l'empatia. È un richiamo a vivere in armonia con voi stessi, con gli altri e con l'intero universo. Riconoscete la vostra grandezza e fidatevi della vostra capacità di manifestare i vostri desideri più profondi. Osate sognare in grande e agite con ancoraggio, superando i limiti autoimposti. Non permettete che i dubbi o le paure vi distolgano dalla vostra strada. Ricordate sempre che siete i protagonisti della vostra storia e che avete il potere di trasformare la vostra realtà. Siate consapevoli che ogni pensiero, emozione e azione emana energia. Concentratevi sull'abbondanza, sull'amore e sulle infinite possibilità, e attirerete nella vostra esperienza quelle stesse vibrazioni positive. Allo stesso modo, se vi immergete nella paura, nella scarsità o nel dubbio, limitate le vostre possibilità. Scegliete consapevolmente di alimentare pensieri positivi e di visualizzare con chiarezza i vostri desideri. Ma ricordate, il vero cambiamento di coscienza va oltre la semplice manifestazione di cose materiali. Si tratta di un cambiamento interiore che si riflette nel modo in cui pensate, agite e vi relazionate con il mondo. Diventate consapevoli che avete già tutto ciò che state cercando di ottenere e agite di conseguenza. Siate grati per ciò che avete già manifestato nella vostra vita e visualizzate con chiarezza ai vostri desideri futuri. Immergetevi nel viaggio alla scoperta di voi stessi. Coltivate la saggezza interiore che risiede nel vostro cuore e nella vostra intuizione. Connettetevi con l'universo, sapendo che siete sempre guidati sulla strada giusta. Lasciatevi affascinare dalla meraviglia che siete, perché dentro di voi si nasconde la grandezza stessa. Infine, abbiate fiducia in voi stessi e nella vostra capacità di creare e trasformare. Liberatemi dalle catene autoimposte e abbracciate la vostra essenza divina. Siete parte integrante dell'universo, pieni di infinite possibilità. Ricordate che il potere è nelle vostre mani, nella vostra mente creativa e nel vostro spirito eterno. Siate i creatori del vostro destino, i padroni della vostra vita. Non accontentatevi di ciò che vi è stato insegnato o di ciò che la società si aspetta da voi. Siete qui per vivere una vita straordinaria, per trasformare il mondo con il vostro amore e la vostra unicità. Se lo volete, lo avete. Non c'è altro da aggiungere. Credete in voi stessi, nelle vostre capacità e nella magia che vi circonda. Siete i portatori di un potere straordinario, e ora è il momento di lasciarlo brillare. Siate la manifestazione di tutto ciò che desiderate e ispirate il mondo con la vostra grandezza interiore. Il segreto è vostro. Ora è tempo di abbracciarlo e usarlo per creare la vita che veramente desiderate. Siate la luce che guida gli altri verso la loro grandezza. Siate la testimonianza vivente della potenza della vostra volontà e della vostra immaginazione. Avanti, portatori di potere. Il mondo vi aspetta.